tranne di Carmine diciamo il resto sono tutti a disposizione oggi allora la Roma che mi aspetto devo essere sincero non lo so ma non lo so perché potrei invertire la domanda allora la Roma che Crotone si aspetta insomma perché più o meno è simile insomma la situazione tra le due squadre insomma con obiettivi ovviamente non raggiunti con forse un pizzico di disorientamento insomma voglio dire quindi non lo so insomma e devo aggiungere anche che non mi interessa insomma che tipo di Roma incontreremo adesso mi interessa che vada in campo un Crotone con la testa giusta con la voglia giusta con il gusto di e la consapevolezza del privilegio di giocare in uno stadio come quello questa è l'unica cosa che mi aspetto andiamo ad affrontare ripeto queste quattro partite cercando magari di trovare equilibrio nel caso ci dovessimo riuscire in queste quattro partite però i motivi di questo eccessivo di questa maniera di prendere troppi gol li valuteremo insieme a fine campionato anzi li valuterà meglio la società quello che il Crotone ha fatto in queste dieci partite è sotto gli occhi di tutti non credo che ci voglia mi sembra molto chiaro e per cui leggo quando posso e quando voglio dei commetti che in gran parte condivido in alcuni casi no ma questo fa parte un pochino di ci mancherebbe altro insomma quindi non però non reputo o generosa o ingenerosa le valutazioni che si vogliono fare io ritorno sul concetto di prima ci sono dei dati oggettivi non vorrei che si facessero delle considerazioni perdendo di fatto quelle che è l'oggettività delle cose e se volete poi giorno dopo la fiorentina vi dico l'oggettività quindi non c'è da aspettare moltissimo sul fatto che la roma sia più delusa del Crotone ho qualche dubbio nel senso almeno per ripeto io a volte sono costretto a parlare in generale ma parlo per me per il mio stato d'animo io sono molto dispiaciuto senza usare un altro termine insomma quindi andare a affrontare le partite sapendo che non c'è niente da giocarsi se non la dignità se non il solito discorso per me è una grandissima frustrazione non lo so se l'avete capito però nel caso ve lo confermo quindi non il mio stato d'animo sarebbe di giocare queste quattro partite tra virgolette dando tutto dando tutto per dimostrare che comunque questa retrocessione è una retrocessione che la società la città accetta però che deve terminare in una determinata maniera non ci sono altre alternative questa è l'unica ma credo importantissima motivazione che devono avere i giocatori